Sindaco, anche la città di Fano non dimentica? Non dimentica direi di più. La città di Fano ha fatto una scelta precisa, all'unanimità, nel 2015 nel voler inserire all'ingresso della residenza municipale una lapide che richiamava una bellissima storia di solidarietà, di umanità, di socialità, nei confronti di coloro che hanno subito le vicende ordente dello sterminio. 150 ragazzi usciti dai campi di concentramento, sopravvissuti, sono stati accolti nella nostra città, accolti, accompagnati, addirittura una frase bellissima di uno di questi ragazzi che ha detto allora, Fano non ci ha accolti come dei profughi, ma ci ha fatto sentire come gente appartenente alla stessa comunità. Questo è un bel messaggio, ci rende orgogliosi, ma con questa cerimonia che noi puntualmente facciamo dal 2015 ogni anno qui all'ingresso del Comune è proprio per lanciare un messaggio chiaro. Fano vuol ricordare anche negli anni futuri, quando anche gli ultimi testimoni non ci saranno più per un fatto anagrafico, ma non si può dimenticare, bisogna ricordare perché certe atrocità non possono più ripetersi. Oltre alla condanna bisogna che diamo anche messaggi forti, che purtroppo la storia ci insegna che l'uomo ripete spesso gli stessi errori e se ci guardiamo anche nel passato recente, purtroppo vicende dolorose, brutali ancora esistono. Allora questi momenti non sono semplici ritualità, ma sono un messaggio forte, sono una testimonianza forte.